Dunque, debutto vittorioso all'Adriatico Giovanni Cornacchia, oltre 7.000 spettatori. E' sempre effetto Zeman, in campo tre golle, prima vittoria, 3-1. 7.187 spettatori, dato assolutamente significativo da rimarcare dopo la cocenta delusione dello scorso 8 giugno, sconfitta ai rigori nella semifinale playoff col Foggia, un precampionato non proprio entusiasmante e un mercato che non ha riscaldato i tifosi. Sul terreno di gioco soprattutto un buon primo tempo, bene l'attacco dei tre, il reparto meglio assortito. Lo avevamo detto in queste settimane, sensazione suffragata dai fatti, certo. Dall'altra parte un avversario non irresistibile, soprattutto nelle retrovie. Il Pescara ha sfruttato con cinismo le leggerezze della giovanissima, inesperta difesa bianconera. Sicuramente un merito. Cupone, riferimento centrale del 4-3-3, una buonissima soluzione. L'ex potenza fa fatica a giocare sulla fascia, sulla cosiddetta catena, perché è un calciatore molto istintivo e non ha una grande tecnica che il ruolo e i meccanismi del calcio zemaniano richiedono. Per contro è molto più utile quando può svariare e attaccare lo spazio. Ha una generosità contagiosa, non si risparmia mai. Soprattutto fa gol, la cosa più importante per un attaccante. Già due all'esordio, tre in gare ufficiali, in totale 12 dal suo arrivo a Pescara. Altresì positiva la prova del 19enne Federico Cornero. Si tratta di un debuttante davvero piacevole e sorpresa di questo primissimo scorcio di stagione. Sempre a segno nelle ultime quattro gare per movenze assomiglia delle monache. Ma rispetto al 18enne di Cappelli sul tavo sembra vedere di più la porta avversaria. In difesa è piaciuta la personalità di Mesic decisivo nel primo tempo su Turicchia. Lo Slovacco è destinato ad assurgere a perno imprescindibile del reparto. In crescita Pierno e Milani. A centrocampo si spera che squizzato diventi quello che al momento non è, ovvero un play nel più breve tempo possibile. Ma è solo l'inizio. Giusto e doveroso aspettare test più probanti. Quello di domenica prossima a Perugia, ore 20.45, senza il nazionale Tuniov, sicuramente lo sarà.